Un altro atleta invece che deve mantenere la concentrazione altissima è Vincenzo Delfino, l'amatori Catania. Ciao Vincenzo, noi dobbiamo invece incrociare le dita perché voi avete un impegno importantissimo. Sì, molto importante, domenica alle 4 giochiamo contro il Modena, il Modena Rugby per la promozione in Serie A. E quindi quando è questa partita? Diciamolo subito così la gente, l'orario? Alle 4, alle 4 al Santa Maria Goretti. E allora magari con le radioline ad ascoltare Diretta Stadio, insomma con i televisori portatili, a vedere un po' dopo aver ascoltato il sabato la partita del Catania, domenica potete andare tranquillamente a vedere e attifare. Assolutamente, il pubblico è importantissimo. Perché se il pubblico di Catania vuole emozioni, beh insomma, abbiamo parlato di motivazioni, di situazioni emotive, anche di voglia di imporsi in un campionato difficile. Voi insomma siete sul campo e queste emozioni le vivete, insomma partita dopo partita. Catania è una bella favola, anche l'amatori lo è stato e speriamo ritorni ad esserlo davvero per questa città. E voi avete la possibilità di potervene a giocare, avete bisogno però, le motivazioni le avete, avete bisogno di un pubblico. Il pubblico venga a sostenersi, assolutamente, assolutamente, è importantissimo avere persone che vengono a tifare per te, un contributo che lo senti direttamente sul campo. Ricordiamocela questa cosa, domenica alle 16. Domenica alle 16, Santa Maria Goretti, io torno a Roma e mi cato a punto. Importantissimo. Non c'è questa coincidenza che il Catania gioca anche di sabato, per cui i tifosi del Catania possono tranquillamente andare a vedere. Ma diciamolo adesso, diretta a Stadia è sabato, no Angelo? Sicuramente non è domenica.